salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video dopo continui messaggi su whatsapp e infiniti post su facebook ma è uscita la banned ma quando esce la banned finalmente la konami ha risposto a tutti noi players e oggi 4 agosto 2016 ha caricato sul sito ufficiale la banned list aggiornata ad agosto 2016 che entrerà in vigore dal 20 agosto 2016 quindi la banned odierna quella attuale rimarrà effettiva ovviamente fino al 19 agosto 2016 vi dico subito che il video durerà veramente poco in quanto nessuno ha ancora postato qualcosa su facebook su youtube ancora non ho visto nulla al riguardo quindi ero i miei pareri le mie impressioni precise diciamo così in un prossimo video magari durante il fuck you time o in un video a parte tuttavia se devo darmi un mio giudizio della banned ora vi posso dire che una banned come dire una banned straordinaria che ridimensionerà l'intero gioco e carte finite nel dimenticatoio torneranno ad essere giocate torneranno ad essere viste con loro torneranno alcuni mazzi ormai reputati morti e il meta attuale è stato letteralmente sconvolto è stato stabilizzato e tutto ciò poco prima dei ycs probabilmente la konami la konami scusate ha deciso di muoversi prima del dell'evento che si terrà rimini non so se si terranno altri eventi del genere non ho controllato quindi direi di non perdere altro tempo e vi dico che a sorpresa la prima carta bannata e volevi guarda che faccia guarda che faccia non se l'aspettava